Progetto di restauro e consolidamento che procede spedito e che entro la primavera prossima sarà riconsegnato alla comunità in uno dei luoghi più importanti della gloriosa storia medievale di Lanciano. Porta San Biagio, l'ultima rimasta delle nove che anticamente davano accesso alla città, tornerà all'antico splendore. Per la tutela di questo patrimonio storico la regione ha finanziato l'intervento con 300 mila euro dei fondi Masterplan. I lavori prevedono la pulizia, il recupero, il consolidamento dei paramenti murari e lapidei che da anni hanno sofferto l'incedere del tempo. Nell'area adiacente sarà riportato a nuovo lacciottolato come richiesto dalla soprintendenza unitamente al porfido e alla pietra bianca della maiella. E' già visibile il suggestivo percorso pedonale che dall'antica porta scende sulla sottostante strada provinciale, principale ingresso a Lanciano dal mare nel segno della vocazione di Anxanum per le fiere e i commerci. Il monumento e tutta l'area saranno illuminate nella prospettiva turistico culturale di un luogo simbolo di Lanciano. Vanno avanti anche i lavori di consolidamento idrogeologico delle mura laterali a Porta San Biagio. Il vice sindaco Giacinto Verna. Sarà un fiore all'occhiello per la nostra città perché sono convinto che porterà tantissimo turismo nella nostra città, visto che anche in quell'area, nel centro storico, stiamo investendo ormai da qualche anno, stiamo investendo perché creiamo fortemente nella vocazione turistica della città di Lanciano e del centro storico bellissimo, secondo in Abruzzo, della città di Lanciano appunto. L'illuminazione fondamentale? Sì, anche il progetto di illuminotecnica è stato ben studiato e curato, quindi ci sarà una illuminazione che dal basso in alto segnerà tutti e due i percorsi, sia quello che dalla Porta San Biagio va a valle verso via Perfrisa, sia il percorso che va verso l'attuale parcheggio verso il quale appunto stiamo tra l'altro anche terminando i lavori di consolidamento delle mura.